ciao a tutti anche oggi siamo qua per parlarvi di storioni molti di voi trovano difficoltà nella creazione di un rig con questo video vi voglio far vedere un modo molto semplice per creare un rig senza dover impazzire allora prima cosa togliere schiacciare l'ardiglione nel nostro caso andremo a utilizzare un amo senza ardiglione gli articoli che ci servono sono amo conetti ago e stopperini per cui prendete il vostro amo se è dotato di ardiglione lo schiacciate andiamo a prendere due gommini questo primo andiamo a mettere un altro gommino pochissimi secondi e ragazzi e la vostra montatura il vostro rig è già pronto arrivati a questo punto non ci resta che decidere che esca utilizzare questa montatura è ottima da usare col cuci col pallet con le pop up e le boilers proviamo a fare un esempio col cuci è sufficiente prendere un quadratino e poi andate a chiudere con il vostro conetto questo cono vi da vi aiuta a non perdere l'esca ve la tiene salda e ancorata al vostro amo una volta che avete deciso che esco utilizzare andate a tagliare l'eccedenza per non ferire il pesce con una pinzetta in questo modo cambiare l'esca è molto semplice basta sfilare il gommino e andare a inserire un altro tipo di esca modo semplice veloce e rapido quindi ragazzi gli articoli sono tre conetti ago e sopperini questi articoli li trovate già sul nostro sito ragazzi vi saluto e come sempre tutti a pesca